giovedì 28 dicembre buongiorno amiche buongiorno amici bianconeri ben trovati qui sul canale un fine anno con i botti e allora continuiamo sulla scia di questi botti perché andiamo ulteriormente ad approfondire quanto diciamo fatto con il contenuto di un paio di giorni fa relativamente alla situazione debitoria dell'inter prima di sviluppare il tutto titolo del contenuto marotta alzato un polverone vi invito ad iscrivervi al canale youtube azionale la campanella delle notifiche e magari se sarà stato di vostro gradimento non dimenticare un bel pollicione verso l'alto in fondo la puntata ovviamente è riferito prevalentemente agli interisti agli juventini difficilmente un interista metterà like a questo contenuto non è importante perché come vi avevo anticipato già nel contenuto precedente sapevo che sarebbero arrivate in la flotta in massa i tifosi dell'inter mi aspettavo onestamente anche insulti peggiori devo dire che tutto sommato fa parte anche dello sfottò tra tifoserie perché lo sfottò e poi anche il sale del tifo quindi ci sta per carità l'importante che si rimanga sempre nei limiti della decenza e quindi mi aspettavo assolutamente anche situazioni peggiore tutto sommato è andata bene molti però non hanno ben compreso che in uno non sono parole mie non sono dati miei ma sono dati certificati emessi da un contabile revisore dei dei conti e quindi persona preparata su quanto dichiarato peraltro articolo uscito su il giornale a firma luca marotta che andremo poi a riprendere perché chiaramente marotta alzato un polverone prima si taceva sulla questione oggi ne hanno parlato un po i vari media sul web ma soprattutto anche chi è sparito dal panorama calcistico che conta per una situazione debitoria decisamente differente rispetto a quella dell'inter e allora proseguiamo come dicevo nella questione leggendovi quello che è il malumore dei tifosi della regina è quello che viene riportato attraverso il sito tutto regina punto com dicevo parole non mie e soprattutto quelli che quello che molti non hanno capito che non è una guerra di tifo ma è semplicemente cercare di portare a conoscenza situazioni che sono abbastanza gravi che vengono celate evidentemente ad arte mentre invece fa molto comodo spiattellare tutte le questioni che riguardano la juventus anche laddove poi non si si non si verificano situazioni raccontate preventivamente però fa comodo dire che la juve ha commesso falso in bilancio ad esempio la juve non ha commesso falso in bilancio almeno attualmente la juve è uscita dalla questione relativa ai bilanci 2019 20 20 21 è sotto diciamo la lente di ingrandimento la questione relativa al bilancio 2022 per la quale la juve ha emesso un assolutamente nel pieno rispetto della legge saranno poi le autorità competenti a stabilire questo non voi tifosi a sostenere che la juve è diciamo con lei che falsifica i bilanci e l'inter invece ha una situazione patrimoniale assolutamente erosia e florida non è assolutamente così purtroppo per l'inter e anche se vogliamo per voi comunque andiamo avanti la questione che dicevo si è sollevata attraverso questo articolo così riporta tutto regina punto com che si fa portavoce del malumore di tifosi della regina per il silenzio e il mobilismo della figici nei confronti della pesante situazione debitoria dell'inter già perché per molto meno la squadra calabrese è stata estromessa e stromessa dalla stessa federazione dal campionato di serie b debito da incubo finanziamento da rimborsare al 6 e 75 per cento e il silenzio perenne della figici riferito ovviamente alla questione inter denuncia alla testata tutoregina punto com se la regina è costretta a ripartire da sotto zero a causa della decisione di della figici di escludere il campionato di serie b in testa la classifica del massimo campionato nazionale c'è una società che in qualsiasi altro settore merceologico avrebbe portato da tempo i libri in tribunale stiamo parlando dell'inter la cui situazione economica è stata analizzata con attenzione da il giornale unica testata giornalistica insieme a report ad avere ad accendere un faro su uno squilibrio che falsa davvero l'equa competizione tanto amata da gravina si legge sul giornale e prosieguo su quello che è stato il racconto nel precedente contenuto dove vi ho riportato dati che ovviamente non sono miei non sono frutto della mia immaginazione né presi così a caso ma sono a ripeto figli dell'articolo redatto da luca marotta revisore dei conti contabile economista che appunto ha scandagliato in lungo e largo la situazione patrimoniale e debitoria dell'inter gli scricchioli si moltiplicano e potrebbero presto sfociare in un punto di rottura che pare inevitabile a giugno 2022 infatti è stato emesso un bond dal 415 milioni con scadenza 2027 e fin qui tutto bene con un rendimento monstre del 6 75 per cento già qui meno bene i cinesi di suning che controllano la società attraverso il veicolo grand tower dovranno trovare il modo di rimborsare entro la scadenza di maggio 2024 anche il finanziamento da 275 milioni del fondo californiano octree che a garanzia del suo credito ha preteso tutte le azioni del club stante questi numeri la proprietà cinese dovrebbe farsi carico di un robusto aumento di capitale per equilibrare per equilibrare una situazione che alla lunga potrebbe costringere a portare i libri in tribunale ma chi dovrebbe ricapitalizzare e quindi mettere dentro soldi non naviga nell'oro trattasi di suning.com gigante dell'elettronica di consumo e perno del gruppo suning che sta navigando che non sta navigando in buone acque nel 2022 ha perso circa 2,1 miliardi e quest'anno la situazione pur essendo migliorata nel primo semestre permane in perdita anche a causa di un'economia cinese che ha avuto una ripresa dei consumi inferiore alle aspettative la famiglia Zhang sta affrontando diversi problemi in patria con i creditori di fronte a questi numeri e a queste difficoltà aumenta la rabbia per il sacrificio di una piccola realtà come la regina forse punita oltremodo al di là delle colpe dei suoi amministratori quindi sono evidenti e rilevate le colpe degli amministratori della regina lo squilibrio però che viene posto sul piatto e che io poi rimando a voi è evidente quindi la regina che conta obiettivamente con tutto il rispetto per la regina davvero poco è stata fatta fuori con il solito misfatto all'italiana ricorderete l'estate scorsa con l'esclusione della regina il ritardo dei calendari ritardo dell'inizio dei campionati con squadre che non sapevano quando avrebbero potuto giocare la loro prima giornata non solo in serie b ma a cascata anche in lega in lega pro e via discorrendo mentre invece la situazione dell'inter fino a ieri era una situazione ben celata e che purtroppo lo sottolineo diversi giornalisti raccontano in maniera non onesta e non corrispondente al vero celando un po quella che è la situazione grave nella quale naviga la società nerazzurra ora con questo e lo ribadisco per la milionesima volta a me non me ne frega assolutamente nulla di fare la guerra alla società inter che deve fallire no ci mancherebbe non è questo si parla si tratta semplicemente di portare a conoscenza una situazione grave fin qui celata nascosta o mal raccontata contro invece a tutte le situazioni che vedono invischiata la juventus ma dove per invischiata è proprio volutamente il termine utilizzato perché molte volte viene tirata dentro anche laddove poi risultano non esserci assolutamente irregolarità di conseguenza quando parlando della questione raccontata attraverso l'articolo di luca marotta si fa presente nella grave situazione patrimoniale dell'inter perché con patrimonio netto negativo di 161 milioni di euro c'è di che preoccuparsi è inutile che si venga a tirar fuori sempre meglio della sede di chi falsifica i bilanci siete fuori luogo siete fuori strada ma soprattutto ricordatevi che la juventus che piaccia o no dispone di una proprietà che quando decide di andare in tasca per ricapitalizzare e ripianare le eventuali situazioni mal gestioni che hanno portato a situazioni debitorie importante lo fa e lo fa attraverso una consolidata potenza economica attraverso una situazione per la quale la stessa proprietà aveva deciso di dire basta dopo i 700 milioni di recapitalizzazione negli ultimi anni e invece proprio perché la juventus è un patrimonio della famiglia proprio perché la juventus è una un'azienda importante di famiglia e deve essere rimessa in piedi nel miglior modo possibile dal punto di vista della gestione sportiva ci sta pensando giuntoli con manna scanavino ferrero attraverso la riduzione dei costi attraverso operazioni più sostenibili e per quanto riguarda invece la situazione economica ci ha pensato la proprietà con una ricapitalizzazione da 200 milioni di euro segno evidente che la situazione della juventus non è assolutamente paragonabile a quella dell'inter che vi piaccia o meno la juventus non ha patrimonio netto negativo come ce l'ha come ce l'inter la juventus dispone di uno stadio di proprietà di un museo di un hotel insomma ha un asset completamente differente e soprattutto ha una proprietà molto solida lo stesso non credo si possa raccontare ma ripeto non per voler fare la guerra di tifo ma perché sono dati reali oggettivi della situazione attuale dell'inter e soprattutto evidentemente a qualche d'uno il l'articolo mosso da luca marotta guarda caso proprio omonimo del amministratore delegato dell'inter del direttore generale dell'inter ha dato abbastanza fastidio proprio perché c'è chi ha vissuto situazioni definite decisamente meno gravi ed è sparito dal panorama calcistico che conta io non auguro all'inter di sparire dal panorama calcistico che conta auguro però come viene raccontato da stallo stesso tutoregino.com che la competizione debba essere equa e per essere equa le leggi devono essere uguali per tutti si deve indagare e scandagliare la situazione per tutti in ugual misura e se ci sono delle ammende delle sanzioni delle punizioni delle esclusioni tutto quello che volete deve essere uguale per tutti ditemi la vostra ci sentiamo presto come sempre fino alla fine forza you ciao